It's time to play the game! Time to play the game! Andiamo a pulire i cesti di cavala! Cos'è Stop Canyon? Cosa bisogna fare? Andiamo! Andiamo! Ma vaffanculo! Ma questa cosa brutta qui sei te? Sono io! Ma sono come su High Heels! Allora, è per il veicolo! Non vedo i rombi! Ti è invitato? Sì! Eccoti! Ti vedo pranzo! Eh sì sì! Vi vedo anch'io! Ma perché non corre il mio mino? Scusami! È ricardato! È handicapato è lui! È handicapato! Cosa stai facendo con la retro te? Sto andando a prendere pranzo! Lo faccio due volte doppio abuso! Faccio che... Tema di stare su un chiamo della spazzatura! Cosa stai? Vieni! Adap! Ma guarda che ti alza il volume da T.S. perché mi sento bassissimo! Ma c'è lei sulla destra! Oh! Ci stai minacciando! Ah è lui! Aspetta! Ti sto alzando il volume! Non sono in gioco! Due secondi! Io ho una domanda scusami! Ok! Ma se Franz è qua di fronte a noi chi è quello che abbiamo sulla destra? Sei un cretino! Sei un cretino! Non ti ho ucciso! Ma cosa no? Mi hai fatto malissimo! Ma io pensavo che eri già salito! C'era uno qua di fianco! Esatto! Chi è questo qua sulla destra? Ma c'è uno salito qua nel camion! Dov'è? Ma Giampo non sei te! Io sono dentro! Ma ce n'è uno qua a fianco a noi! Dov'è mi devo curare? Ma tu dove sei? Ah scusa! Ma dove sei tu? Non ti vedo niente! Sono a fianco a te! Ah ok! Di fianco a te! Dietro non c'è nessuno! Mamma mia! E l'altro è Franzo! Sono io qua fuori! Ma Giampo sei idiota! Io l'ho investito perché pensavo fosse un altro! Ma cosa c'entro io se tu che li stai guidando? Aspetta! Aspetta! Aspetta che devo alzare il volume! Ok! Ora devo fare lo screenshot per il video! Sembravi nei turbini! Voglio vedere tutti e tre! Ma non ci si... Ah ecco così! Aspetta! Sì! Stiamo guardando tutta sinistra! C'è stato dei freddini! Dei neturbini! Eh sì! Perché è la luce del sole! Dio dei neturbini siamo! Vai vai! Facciamo un video che siamo i neturbini! Gli spurghi! Andiamo a pulire i cessi di cavala! Cos'è sto cagno? Cos'è sto cagno? Io ho fatto uno screenshot a caso! Io non so cosa sia uscito una volta! Te la vuoi fare tutta in retro la mappa? Io ho il padre di mio amico che faceva il neturbini! Sì! Ma sei proprio handicappato! Sì! È il handicappato! Aspetta! Ditemi dove dobbiamo andare! Cioè dove sono i punti da conquistare? Allora! Che cazzo ne so! Ma andiamo a giocare a flearmi prima! Che cazzo ne so! Infatti! Gunstore! Andiamo al ganto! Vai andiamo andiamo! Eh sì! Che cosa fai il navigatore adesso? Che faccio io il navigatore? Quattro! Destra! Due! Vieni! Vieni! Dobbiamo andare a rubare un elico! Maddonna! Ho visto andare su due ruote! Vedi il triangolo? È un nemico! Sì! Eh vai! Io con la pistola lo faccio fuori! Vai vai scendiamo qua appena c'è la scuola! Ma investilo scusami! Scendiamo 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 scendiamo! Ma non è un nemico! Non è un nemico! Ma che cazzo è? Cos'è scuola? Oh c'ho! Oh c'ho! Oh oh! Smettilo! Perché mi mi smettilo! E' un nemico! E' un nemico! E' un nemico! E' un nemico! E' ridi! Smettilo! Stoppa! Stoppati il Gunstore è qui! Ma non c'è qua! Qua non c'è nessun Gunstore! Ma sì è il triangolino! Ah! E' il triangolino il Gunstore! Ciao Gunstore! Ma no! Ci deve essere un tizio! E' il che è il Glamore! E' la Claymore questa! Open Gunstore! E' qua! 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 come un'energia sorry sorry oh mio amico è proprio idiot, sorry io sono usato a arma 2 sorry io non sei io di Aschdruball no no, io sono da Svitterlande da Svitterlande e noi dovremmo andare e abbiamo lavato un pollo perché io sono da Svitterlande perché gli svezzi che puliscono le tue rette che cazzo c'è la red? non lo so gli svezzi è il cioccolato aspetta ogni volta lo devi tirare sotto abbiamo un profugo dietro tra l'altro siamo diventati dei profughi dei trasportatori di profughi stai parlando di un pollo come andy come andy aria ok puntiamo un punto nella mappa in cui pensavo ci sono si no le zone di color diverso dal blu sono quelle da conquistare c'è peccato che sono tutte a fare in culo scusa oh ce n'è uno qua ehm Teresa Teresa no Teresa no Teresa guarda destra tu fra l'aereoporto AC di fianco la TM giallo a destra di fianco la TM giallo a destra di fianco la TM giallo a destra let's go where? no Teresa no Teresa ma io l'aereoporto ma quale aeroporto? vai ah Teresa ok vado 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 ora stiamo un bambolotto Qui andavano a raccogliere le mele E' il mio vecchio lavoro Ah ma questa qua è la via dove Redbox andava mignotte No, questa è la via dove io facevo il burro e mi pagavate il pizzo Infatti fateci caso, chi è a lato sinistra e a lato destra un burro e quindi se sparano I'm shutting up you, mother fucker Mother fucker Mother fucker Mother fucker Poi state Gimbo Jumbo, come cazzo si chiama Come cazzo si chiama Dommo Boy Ok adesso stiamo andando in zona rossa da Teresa We are going to Teresa To conquist the land Now That's not even my name dude Who are you talking about I'm Aronno Sovrano I'm Aronno Sovrano Hellooo, my name is... Fraccio Hi, hi Transessuale brasiliano Franzosessuale Io sono Esteban Io sono... Giambo Giambo Mi chiamo Esteban Esteban Niente, grazie della visualizzazione ragazzi ci vediamo al prossimo video Grandissimo Redbo, sempre simpaticissimo Ma è così che lo vogliamo ricordare E' più lunga fare... Questa sera qua che la salerno del Gio Calabria Sembra un film di Ado Giovanni e Giacomo Tre in macchina che fanno battute così Vabbè Che fanno? Che fai? No vabbè Io ci tengo a precisarlo che codeste battute non sono del mio repertorio Io ancora... Ma nemmeno del mio, me le ha passate già Ah eccoci qua, abbiamo un GPS integrato noi comunque nella mappa Siamo a 1,9 km da Teresa Guarda io vado per campi che mi sono colgato il cazzo Tanto non si fa niente sto camion Non parte più Cioè non si fa niente, non lo direi perché Oddio Oddio Ma cioè abbiamo un repairing kit Ma chi se ne fa i repairing Manca un chilometro e 9 Non ne abbiamo bisogno noi Guarda come butto giù la Redes Ma io ho un buco sotto le scarpe, non mi va di fare la sabbia Come un buco sotto le scarpe? Mangiato gli anfibi usati Si, ho mangiato gli anfibi usati Bastardi Puro C'è spuglio Roccia Sono razzisti Perché sono troppo bianco Ma come scendiamo ci trivelano Ma come scendiamo moriamo perché facciamo iniezione col veicolo Ma sei sicuro che dobbiamo andare in quel puntino rosso sfigato? Eh rosso c'è da conquistare, si Ma si ma secondo me era rosso comunque retinato Anche secondo me Sono tutti rossi retinati o merdi retinati Fidati sono tutti retinati Vabbè ma comunque sono governati dagli NPC o dai player? No player Cioè devi conquistare le zone Io vedo gente che muore Eh sì Ma mi sa che si stavano bastonando a Pyrgos Comunque io lascerei qua che mancano 600 metri Vabbè C'ho niente ragazzi io vi do supporto con la grandissima pistoletta Mamma mia ma che fucile hai Ma come abbiamo fatto a guadagnare 820 Io c'ho 825 dollari Io ne ho 470 perchè ho venduto le armi Ma io non ho fatto nulla 575 Ho giocato in primo o in terza voi? Terza Poi quando arriva il close combat in prima Ok Tutta la sabbia nelle scarpe Adesso odiamo Chi è che si sta mimetizzando così bene nell'asfalto raga? È Jambu Assurba instinct Più 10 Jambu Mamma mia Andiamo andiamo Si sta mimetizzando col cemento Eh sì sì no hai la mimetica giusta Quella pesce Quella pesce Classica mimetica d'asciamento 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 Si come ti metto alla strada No no quella è proprio la mimetica d'asfalto delle strade greche Proprio si chiama così Ah Ho capito Spurghi enco si chiama C'è Spurghi Allora raga io non vedo un cazzo di nessuno qua Cavoli quanti spari che ci sono eh C'è un for- Oh porca puttana L'affanculo red Avete detto che non c'erano spari e vi ho aiutato Ma dov'è Don't you boy? Siete bellissimi perché io su di voi vedo solo due punti blu e nient'altro Come? Eh beh Ah perché copre tutto Ma Don't you boy? Si copre tutto il puttino blu gal Side objective Ah sì queste sono missioni secondarie Andiamo andiamo Allora niente Cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo rimanere fermi qua e conquistare la zona? Sì sì però forse se non c'è nessuno diventa subito nostro Ma Devo non essere arrivati qua per nulla Attenzione qua c'è attraversamento papà con bambini Oh oh player 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 giuro Sicuro? Sì sì qua dentro Eccoli sono i due Io ve l'avevo detto Ai 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 Entra 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 non riesco a entrare fuori d'arma L'ho ucciso Ma guarda che mi sa che sono NPC comunque eh No 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 guarda Jason McKillor è stato ucciso da Aaron Soprano Mcmiller comunque Eh Mcmiller Ma dov'è l'altro? Grande Red Era la dietro era la dietro Dentro sotto il ruolo Hello? No chat veicolo no però Hello? Hello? Hey bitch come out come out Inventario cosa che c'aveva? C'aveva un catiba Prendi prendi te Prendi prendi te Ha un catiba comunque Foxtrot 1 richiedo supporto Delta 2 we need to cover Franzo Dov'è Franzo? Ah è Dovevo trovare un nome a Franzo però Franzo sarà tipo Beta 1 Io sono Pulcino Rosa Pulcino Roma Betamina Betamina Sì Foxtrot 1 Foxtrot 1 pulcino rosa richiede Assistenza Anale No Eeeh 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 Do il mio boy Do il mio boy Eeeh 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 Nooo Do 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 Oh Abbiamo catturato quasi eh È diventata blu Ah abbiamo fatto? Ah forse ho capito Il cosa reticolato rosso Il cosa reticolato rosso è perché c'è un player giusto anche io quindi adesso c'è un altro player in questa zona no a zerba dove andare a zerba a pesa a fianco si è dove andare a zerba però vedi che c'è un reticolato rosse perché c'è un player dentro andiamo a poliacco invece che zerba c'è 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 è morto è morto dal mio boi no oh sparano no ancora ma perché sparavate ehi tol mio boi ma come cazzo hai fatto a morire lì tolto gli è venuto un infarto per le scorreggie è tutto sparato e sanguinato da soli c'è rimasto poverio error no unit guarda il nome abbiamo no unit quando non è che 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 sei tipo traumatizzato della perdita di quel tipo e adesso guiderai male no c'è un altro camion qua guarda dove è vero magari l'hanno fatto quel tizio lì l'ho il mio boi no meno male che c'era quel camion meno male che c'era quel camion andiamo ma cosa hai preso la rete la rete sì amico ma dai ho una rete e lasciamo lui lì sepolto nel camion senza degna sepoltura comunque io farei non so cosa si fa si sparano tre colpi in aria in memoria di old mio boi sì dai tu ti fermi oh poverino sei stato di grande compadria you are great spurgatore non può sentirti da lassù ma forse si ma forse si ma forse si behold the king the king of kings and your knees dog the king of kings the king of kings and the king of kings and here is the king of kings and al